Quando siete nata voi? L'11 settembre 1920. Voi che cosa facevate nella vita? Tutto. Passato il bene e il male. Abbiamo fatto il bene e il male. Che cosa ricorda della guerra? Quello che ricordo di più è prima della guerra. E durante la guerra i disagi della vita, tutti i disagi che il popolo ha passato. E poi dopo la guerra sono convidati a studiare musica. E quindi mi sono divommato in musica dopo la guerra. E poi seguivo Don Antonio e mi chiedo. Perché lei è la sorella di Don Antonio, che è un sacerdote di Liberi. Una sorella. Esatto. Lei viveva con Don Antonio? Sì. E cosa faceva? Vivevo in famiglia, però io stavo con Don Antonio. Stavo a scuola, stavo a campagna. E intedignavo pure. Studiavo musica e intedignavo. Allora... Ma che cosa è successo Don Antonio? Ce l'avevano i tedeschi, mentre celebravano la mezza. E poi? E lo portarono a Roma, a tutti i detenuti. E perché? Ce l'avevano i tedeschi, voglio dire. Acchiappavo la gente e si trasportavano. E dopo quanto tempo è tornato poi? Dopo, dopo la guerra. E' tornato... Perché poi stava a Roma, stava bene. Che lui si presentò al Vaticano. Come sacerdote. La corsa. E lui là stava bene. Ma secondo lei, c'è un segreto per questa vita così lunga che lei ha avuto o no? E' stata una vita volata. E' passata tutto. E' passato il bene, e' passato il male. E' ricordo tutto, ma soprattutto il passato. Ecco, volevo chiedere questo. Il passato lo ricordo di più. Lo ricordo di più. Di più. Tutti quei tempi tristi. Perché poi l'abbiamo passato e bisciuto tutti quanti. Qual era l'alimentazione? Che cosa mangiava? Che cosa mangia ancora oggi? Tutto. Ho mangiato sempre tutto. Se lei dovesse mandare un messaggio ai giovani, ai ragazzi di oggi, che cosa vorrebbe dire? Una vita pulita, una vita piede di alia. Secondo lei, la televisione oggi ha creato qualche problema o no? Come? Meno televisione, più amicizia, più parlare bene, stare insieme in casa, è vero? Grazie. 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 Grazie.